C'erano due amici di vittima in cinema e poi in istant'altro c'è un film di musica che è come essere dentro un film horror dove c'hai una scena di paura e speri che sia l'ultima che rimedi a posto di un sedico di popcore della cosa bellissima Grazie Attenzione perché il cinema americano da 40 anni l'industria cinematografica va avanti soltanto grazie al genere horror Che strada facendosi anche intellettualizzato, attenzione